Buona giornata a tutti, anche se siamo con qualche minuto di anticipo per la trasmissione Magia Stragonaria Paganesimo che va in onda tutti i giovedì da Radio Gamma 5 su 94 FM da Via Belzoni 9 Cadoneghe, Padova. Vi ricordo il numero di telefono della radio, se qualcuno dovesse telefonare, è 700 700 prefissato da 049. Innanzitutto una precisazione per la trasmissione della volta precedente. La radio ascoltatrice che ci ha telefonato dicendo che c'erano dei sospiri nel telefono e un fiato che faceva sentir male al telefono aveva perfettamente ragione. Ho riascoltato la registrazione, effettivamente, specialmente dopo la telefonata dell'amica di padre Turoldo, ero effettivamente, avevo il fiatone, avevo il fiatone. Naturalmente a me queste cose di cristiani mi esagitano un pochino. Un'altra cosa a cui non avevo risposto, una radio ascoltatrice della volta precedente, è la radio ascoltatrice che ci ha chiesto di precisare la questione dei cattolici in Russia. Cosa sta avvenendo in Russia? In pratica cosa è che sta avvenendo in Russia? Sta avvenendo che tutti cercano di spartirsi il bestiame. Tutti vogliono avere il gregge più grande e tutti vogliono accaparrarsi le persone. Pertanto i cattolici stanno cercando di fare le scarpe agli ortodossi russi. Per fare le scarpe agli ortodossi russi hanno un solo mezzo ed è il denaro. Perché le differenze fra le due religioni, fra le due confessioni sono minime, non esistono grandi differenze. Però costruendo una struttura economica abbastanza forte, i cattolici sperano di portare via i fedeli e i russi. In realtà i cattolici in Russia non ci sono mai stati. Gli unici cattolici erano quelli ucraini oppure nelle repubbliche del Baltico. Ma in Russia i cattolici non hanno mai avuto peso, non hanno mai avuto importanza. E stanno sperando appunto attraverso il denaro di portare via il bestiame umano agli ortodossi. Naturalmente a questo gioco gli ortodossi non ci stanno e usano la leva che hanno a disposizione. Cioè praticamente i deputati all'interno della Duma. E stanno cercando in tutti i modi di bloccare i privilegi, non tanto la diffusione del cattolicesimo in Russia, ma i privilegi che la religione può avere. Cioè che i cattolici possono avere. Pertanto in corso non è una questione di libertà religiosa, è una questione di privilegi che i cattolici vogliono uguali agli ortodossi. E là è un gioco molto pesante che sta avvenendo. Voitila ha minacciato di bloccare i finanziamenti che arrivavano dagli Stati Uniti ed è riuscito in parte a bloccarli finché Elzi non ha bloccato la firma della legge che la Duma aveva approvata. Questa è una guerra fra di loro. Purtroppo gli esseri umani sono l'oggetto del contendere. Non c'è niente da fare. Bene, detto questo, passiamo alla trasmissione di oggi. Trasmissione di oggi che intanto ha un'introduzione. Ultimamente ho illustrato le grandi linee del crogiolo dello stregone, meno un elemento che mi riservo di illustrare in un secondo tempo. Ah, ricordo sempre che questa è la trasmissione, scusate, magia, stregoneria, paganesimo. Io sono Claudio Simeoni che vi trasmetto ormai da dieci mesi circa, sempre a questa ora, sempre da questa radio. E Francesco oggi che di solito è con me, non è con me per turni di lavoro, per problemi di ferie, per vari problemi che in questo periodo succedono. E niente, riprenderà il più presto possibile le trasmissioni. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, se qualcuno interessa, via delle Vignole 4 Marghera. Vi ricordo che da sabato mattina, e questo vale per tutti i pagani che sono in ascolto, io arrivo su altipiano di Asiago sabato mattina, per cui quelli che volevano venire venerdì sera non mi trovano perché non vado su altipiano venerdì sera. Niente, da sabato mattina sono su altipiano di Asiago, arriverò sul mezzogiorno, penso. Per cui quelli che mi hanno telefonato, che hanno preso accordi, vedremo di ritelefonarci e metterci d'accordo per trovarci. Abbiamo già preso, abbiamo già stabilito come incontrarci. Io su non ho il telefono, naturalmente, ho il telefono soltanto giù a Marghera, per cui se qualcuno vuole ancora in tempo a telefonarmi fra stasera e domani sera. Allora, ho detto, c'è poi, vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Bene, ultimamente ho illustrato le grandi linee del crogiolo dello stregone, meno un elemento che mi riservo di illustrarlo in un secondo tempo, che riguarda il palpare il mondo. E ci sono state numerose risposte. In pratica, molte persone hanno scoperto che nel crogiolo ci sono degli elementi che loro hanno praticato ottenendo dei risultati. Questo non ci ha sorpreso. Sappiamo che sia fra chi pratica meditazione che fra chi pratica sognare o relazioni in quel circostante, numerosi sono coloro che ottengono l'effetto di risvegliare il dormiente. In altre parole, rende manifesto alla sua ragione l'esistenza del corpo luminoso in formazione. Il problema per le persone che praticano questo genere di attività è che pensano che lo sviluppo del corpo luminoso sia dato dalle tecniche che hanno praticato, mentre le tecniche che hanno messo in atto altro non sono che un modo per costringere la ragione a prendere atto dell'esistenza del corpo luminoso. Queste persone pensano a uno sviluppo lineare del corpo luminoso, ma questo non è. In altre parole, il fatto di ottenere degli effetti che manifestano l'esistenza del corpo luminoso non implicano lo sviluppo lineare del corpo luminoso in quella direzione. Ciò che favorisce lo sviluppo del corpo luminoso è la vita della persona, il quotidiano. Le tecniche costringono la ragione a piegarsi e a prendere atto quanto la vita ha prodotto. La pratica del sognare funziona solo se si è vissuto scegliendo, mettendo in atto delle scelte che hanno nutrito il corpo luminoso. Le persone spesso credono che le tecniche abbiano prodotto il corpo luminoso. Quale inganno? Dopo un certo periodo di tempo, costoro credono che il loro corpo luminoso non dia più manifestazioni della sua presenza. Il sognare diventa faticoso e le pratiche di meditazione sembra che non portano più a nulla. Queste persone devono comprendere che il corpo luminoso si nutre di obiettivi astratti della ragione. Il corpo luminoso, quando si manifesta, favorisce il fare dell'individuo. Nel lavoro e negli interessi tutto diventa più facile, più potente. L'individuo pensa che questo sia il potere che crescerà all'infinito. Invece questo non succede. Il corpo luminoso si nutre del fare astratto della ragione. Il fare astratto della ragione si chiama intento. Se l'intento è fissato su uno degli elementi del crogiolo, il corpo luminoso si nutre e si espande. Se il fare o l'attenzione è fissata su elementi della ragione, il corpo luminoso tende a rattrappirsi. Facciamo un esempio. Il corpo luminoso in un individuo aumenta l'intuizione rispetto alle persone che ha davanti. Se l'individuo usa questa facoltà per gioco, per rendere più incisiva la sua ricerca di conoscenza e consapevolezza, questa facoltà si mescola agli elementi simili della ragione, favorendone le coincidenze attraverso le quali sviluppa la sua intuizione. Se egli usa questa facoltà come se avesse un altro senso, un altro braccio o un'altra gamba, questa facoltà viene distrutta dalla ragione stessa, si esaurisce e lascia l'individuo più vuoto di prima. Per fare un altro esempio, se io devo spostare un grosso masso, è inutile che pensi di spostarlo col corpo luminoso o con la cosiddetta forza del pensiero. Se agisco per ottenere questo, il mio corpo luminoso si esaurisce. Se io devo spostare un grosso masso, il mio corpo luminoso, se è ben amalgamato con la ragione, è in grado di suggerire alla ragione come usare un bastone a mo' di leva per riuscire nello scopo. L'intento è quello di spostare il masso e il corpo luminoso interviene sull'intento pescando dall'astratto e inserendolo nella ragione. Non interviene come un altro braccio. In questo modo, l'intento di spostare il masso ha arricchito la ragione la quale si è dovuta aprire al corpo luminoso per riuscire nel suo intento. Questo è il modo con cui usiamo il corpo luminoso tutti i giorni. Ciò che costruisce la differenza tra lo sviluppo dell'individuo e come conseguenza del suo corpo luminoso e la sua distruzione è il punto dove egli ha concentrato il suo intento. Ciò che noi stiamo facendo, la costruzione del paganesimo politeista, è la costruzione di un grande intento, al di là che riesca o non riesca, nel quale i singoli percorsi soggettivi delle persone possono ancorare i loro specifici intenti, impedendo la distruzione della formazione del loro corpo luminoso. Il nostro intento è un intento astratto, è un intento che non ha fine, è fuori dallo spazio e dal tempo ed è in grado di ancorare ogni intento di ogni singolo individuo senza togliere la soggettività di ogni singolo percorso e di ogni singolo intento. Pertanto, noi stiamo tentando, oltre agli altri scopi, di costruire un intento tanto grande nel quale le singole persone che hanno percorsi di stregoneria o di paganesimo o di relazioni possono legare il loro intento, alimentare il loro corpo luminoso, senza per questo essere legati o vincolati all'intento che stiamo costruendo. E ogni persona che lega il proprio intento specifico al nostro intento non fa altro che arricchire il nostro intento. Pertanto, stiamo costruendo un grandissimo intento e questa precisazione è doverosa perché nessuno deve pensare che il proprio corpo luminoso sia diverso da quello che lui pensa. Il fatto che a volte dia grandi manifestazioni e a volte dia piccole manifestazioni non è dovuto alla sua presenza e alla sua non presenza ma è dovuto all'uso che la persona ne fa nel quotidiano. Ricordo sempre che blocco le telefonate per la prima mezz'ora e i primi 40 minuti. Abbiate un po' di pazienza. Grazie. Bene, dopo questa precisazione veniamo alla trasmissione di oggi. Io ho preparato tutta una serie di trasmissioni prendendo un avvenimento per ogni secolo dal IX secolo cioè dall'Ottocento fino al 1789 che è il secolo dell'evoluzione francese. Quello è il periodo oscuro della stregoneria il periodo nel quale si solidifica e diventa importante il potere clericale cattolico e la stregoneria è costretta a lavorare clandestinamente per ricostruire i percorsi di libertà. Nel far questo ho preso un episodio una situazione sociale una condizione storica caratteristica per ogni secolo. Naturalmente questo io pensavo all'inizio che fosse più semplice. In realtà ha comportato un'enorme mole di lavoro e di ricerca anche perché ad ogni secolo ho aggiunto anche un filosofo o delle situazioni filosofiche e mi hanno praticamente impedito di continuare a sviluppare la devozio. oltretutto la devozio ho dovuto anche preparare le trasmissioni per quando sarò in montagna che io vengo a trasmettere e questo mi ha portato via un sacco di tempo. Pertanto la devozio la riprendo il più presto possibile. Coloro che hanno letto il Sentiero d'Oro sanno in cosa consiste la devozio. Comunque continuerò a scrivere i commentari della devozio appena tornerò della montagna. In questa trasmissione parleremo del Novecento il Decimo Secolo e il fatto di cui parleremo è la schiavitù. Ricordo che nella trasmissione precedente abbiamo trattato i documenti attraverso i quali le donazioni le presunte donazioni di Costantino la truffa con cui la Chiesa Cattolica si impossessa del territorio si impossessa delle Chiese e si impossessa di tutto quanto. questo processo di impossessarsi degli esseri umani del sistema sociale della Chiesa Cattolica è un processo che comincia con la legalizzazione del cattolicesimo ad opera di Costantino fino appunto all'Ottocento cioè fino ai massacri di Carlo Magno e alla struttura giuridica della Chiesa cioè l'impossessarsi della Chiesa dell'impero dei re di tutti i sistemi sociali dove i sistemi sociali non diventano altro che gestori della morale cattolica all'interno dei sistemi sociali bene dal decimo secolo invece cominciano a manifestarsi delle intolleranze però in questo secolo parleremo della schiavitù intesa come status giuridico che tende a sparire in realtà non sparisce ma si trasforma se nell'economia e nella storia si distinguono tre stadi diversi di organizzazione del lavoro lo schiavismo il servilismo medievale e l'operaio dell'industria moderna vede ad esempio la teoria sull'organizzazione del lavoro marxiana nella stragonaria si distinguono due sole situazioni inerenti al lavoro l'individuo che attraverso il suo lavoro costruisce se stesso sviluppando il proprio potere di essere attraverso lo sviluppo della libertà del proprio fare e lo schiavo colui cioè che svolge delle mansioni costretto a farlo non per scelta ma per costrizione alla stragonaria i sistemi coercitivi non interessano cioè nel senso che interessano soltanto nella misura in cui viene fondato un percorso di libertà cioè il fatto che lo schiavo sia tale per per educazione o sia tale perché gli hanno messo delle catene alla stragonaria questo non interessa è sempre uno schiavo interessa per i mezzi con cui arrivare alla liberazione ma è sempre uno schiavo d'altronde il passaggio della schiavitù in senso classico al servilismo medievale è stato un peggioramento delle condizioni di vita non un miglioramento anche se è impostato un percorso diverso di mutamenti inoltre le trasformazioni non sono avvenute per volontà soggettiva degli schiavi ma per convenienza degli schiavisti a peggiorare le condizioni degli schiavi peggiorando le condizioni degli schiavi nel loro presente hanno consentito di mutare il percorso di trasformazione del divenire per quanto possa apparire assurdo diremo che il peggioramento delle condizioni in quel presente ha consentito di costruire un futuro diverso quando osserviamo il fare degli stregoni ricordiamo sempre perché uno stregone ha l'intento fissato sul tempo che viene incontro sul futuro in costruzione pertanto spesso è spietato nei comportamenti nel presente per costruire una casa è necessario scavare la terra per porre le fondamenta se qualcuno vede lo scavo non è detto che veda come sarà la casa magari si arrabbia perché qualcuno ha scavato la terra e considera questa un'azione stupida gli stregoni praticano il sognare e l'alterazione della percezione pertanto percorrono i mutamenti possibili ciò non è possibile a chi ha passato una vita in ginocchio o a lamentarsi per le condizioni in cui è costretto a vivere il cristianesimo ha attraversato la storia affermando che uno dei motivi per la sua vittoria sul paganesimo fu dovuta perché il cristianesimo ricordo sempre che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora abbiate pazienza vittoria sul paganesimo fu dovuta perché il cristianesimo era contrario alla schiavitù questo non è vero il percorso d'uscita dalla schiavitù dalla schiavitù fu un percorso lungo durato molti secoli dunque vediamo un percorso lungo durato molti secoli e il percorso di schiavitù non può essere distinto da quello servile se non quando il potere emetterà le prime costituzioni attraverso le quali comincerà a limitare il proprio potere assoluto nei confronti degli esseri umani vi ricordo sempre che non prendo le telefonate per la prima mezz'ora 40 minuti rotali fu un re lungobardo cristiano anche se ariano la moglie Gundelberga era cattolica estese il dominio nell'Italia settentrionale dalla Liguria ad Oderzo e morì nel 652 rotali promulgò nel febbraio del 643 un editto di leggi composto da 388 capitoli alcuni di questi capitoli riguardano gli schiavi vediamo cosa diceva rotali a proposito degli schiavi il termine servo è un eufemismo per dire schiavo tanto per essere chiari se un servo avrà osato unire in matrimonio una donna o una ragazza libera si è punito con la morte e i parenti di colei che fu consenziente al servo abbiano il diritto di ucciderla o di venderla come schiava fuori dal regno e facciano quello che vogliono dei beni della donna stessa se i parenti trascureranno di fare quanto sopra allora possa il gastaldo reggio o lo sculdascio condurla in una cursa del re e metterla fra le schiave del laboratorio questo è l'articolo 221 dell'edito rotaria dei rotari l'articolo 224 dice se qualcuno vorrà rendere libero un suo servo o una sua ancella schiava gli sia permesso fare come gli piace infatti chi vuole renderlo fulcre fulcri cioè è indipendente da sé cioè amud sono tutti termini loro deve fare così in primo luogo lo consegni nelle mani di un altro uomo libero e davanti all'assemblea lo confermi e in secondo lo consegni al terzo nello stesso modo dal terzo al quarto e il quarto lo conduca a un quadrivio e pronunci questa formula puoi andartene libero per quella che vorrai di queste quattro vie se così sarà fatto allora sarà amud e la sua libertà sarà incontestabile fatto questo il suo padrone non abbia più alcun diritto di pretendere qualche cosa da lui o da un suo discendente e se colui che è stato liberato sarà morto senza eredi legittimi gli succede la corte regia e non il padrone e i suoi eredi questo è l'articolo abbiamo detto 224 l'articolo 233 recita nessun servo possa senza il permesso del suo padrone vendere terreni né vendere o liberare uno schiavo se qualcuno avrà comperato qualcosa da un servo perda il prezzo pagato e restituisca al padrone quello che avrà comperato dal servo l'articolo 273 sempre dell'edito rotariano recita se un servo vaga fuggendo all'interno della provincia e il padrone lo trova e il servo fuggendo si rifugia in una corsa altrui cioè in una casa altrui praticamente il padrone inseguendo la locatura non si è fatta alcuna colpa al padrone che sfogando il suo furore contro il servo si impadronisca di una cosa già sua per essere penetrato in una corsa altrui bene con l'edito rotariano non fa altro che confermare lo schiavismo e il possesso delle persone pertanto era una bugia il fatto che i cristiani volevano che gli uomini non fossero schiavi questo edito rotariano è stato ripreso dall'operazione storica di Sione Mondadori è un libro che si usa ai licei per studiare tanto perché non è un libro segreto si usa proprio a modo di studio studentesco dal 643 vediamo come il diritto dell'edito rotariano si trasforma nel capitolare di Carlo Magno edito fra l'800 e l'813 in cui la situazione non solo non cambia ma viene riaffermata vediamo cosa dice un posto di dito di Carlo Magno articolo 803 se qualcuno avrà ottenuto legittimamente la libertà con una carta di emancipazione del suo padrone sia libero se altro ingiustamente tenterà di ridurlo nuovamente in schiavitù ed egli esibendo la carta di emancipazione avrà provato che l'avversario avrà tentato ingiustamente di servirlo chi si è reso colpevole del tentativo e si è costretto a pagare della multa scritta sulla carta articolo 781 nessuno venda fuori dal nostro regno schiavi cristiani né pagani né qualsiasi arma o stallone chi lo faccia si è costretto a pagare l'ammenda regia se non potrà far tornare quegli schiavi si è costretto a pagare il quidriglio il prezzo da pagare per l'uccisione di un uomo per evitare la vendetta dei familiari è importante questa emancipazione di Carlo Magno perché questo perché una delle caratteristiche degli schiavi è che gli schiavi sanno lavorare sanno lavorare in ferro sanno lavorare in legno sanno arare la terra sanno fare tutta una serie di cose che gli schiavisti non sanno fare cosa se ne fanno di una carta di emancipazione delle persone che non sanno né leggere né scrivere che però battono bene il ferro non se ne fanno niente però una carta di emancipazione andava bene per un altro padrone per cui la libertà dello schiavo non era funzionale allo schiavo stesso ma era funzionale a un altro padrone per appropriarsi del suo lavoro questo è il senso delle carte scritte le carte scritte a quei tempi potevano essere lette soltanto da pochissime persone non siamo più nell'antica Roma dove quasi tutti sapevano scrivere ricordiamocelo questo siamo nel medioevo siamo nell'evo oscuro e nell'evo oscuro sta legge soltanto a pochissima gente essenzialmente i prelati vediamo pertanto come la schiavitù del cristianesimo si riaffermi con tutta la sua violenza e a testimonianza che i cattolici trafficavano in schiavi c'è un altro documento sulla donazione all'abbazia di Cuncli in data 19 gennaio del 1062 dice facciamo dono al signore Dio e al signore abate Ugo abate di Cuncli 1049-1109 della villa di Villa Volgier Città di Berziaco con i servi e le schiave che ovunque in quel patrimonio vivano e abitino siano costoro liberi o siano servi ed è la stessa chiesa cattolica che mette le mani avanti affinché nessun schiavo possa diventare chierico o prete se non prima di aver avuto ricordo come prendo le telefonate per la prima mezz'ora se non prima di aver avuto la libertà ed ecco il concilio di Toledo del 633 che afferma tutti coloro che hanno ricevuto la libertà dai loro signori in modo che il padrone non abbia conservato per sé l'obsequium cioè lo sequenza l'asservimento costoro se non hanno commesso reati penali possono essere ammessi liberamente all'ordine del clero essendo notorialmente liberati con una manomissione diretta coloro che sono manomessi con riserva di obsequium poiché sono ancora legati al padrone con vincolo di servitù in questo modo possono essere promossi all'ordine ecclesiastico e ciò per evitare che quando lo volessero i loro padroni da chierici ridiventino servi quanti in quel periodo sapevano leggere e scrivere? nessuno la chiesa cristiano-cattolica si guardava bene dell'insegnare a leggere e a scrivere ricordo che in uno degli scontri che ci sono stati fra i missionari in Africa fra i protestanti e i cattolici era che mentre i cattolici battezzavano tutto bastavano che le persone si mettessero in ginocchio i protestanti avevano l'obbligo di insegnare a leggere e scrivere perché potevano battezzare o far diventare appartenenti alla chiesa soltanto chi sapeva leggere qualcosa della Bibbia pertanto per i protestanti c'era un minimo di scelta mentre i cattolici battezzavano tutto perché a loro bastavano che la gente fosse schiava ricordiamoci queste piccole differenze uno schiavo era uno schiavo e basta doveva essere oggetto del massimo disprezzo doveva ascoltare quanto il prete diceva e soggettivarlo non aveva diritti non poteva verificare quanto gli veniva detto qualunque servo poteva essere uno schiavo d'altronde il termine servo era sinonimo di schiavo aveva lo stesso significato a Roma i plebei appartenevano una classe sociale libera avevano rappresentanti nel senato e nei collegi giudicanti sapevano leggere e scrivere e avevano proprio i templi nel tempio di Cerere erano custoditi gli archivi della plebe sotto i cristiani ogni uomo è servo e ogni servo è schiavo questo era il vero progetto del cristianesimo sin dall'inizio e Celso lo aveva capito perfettamente la trasformazione avviene all'interno del decimo secolo nel novecento il secolo di cui stiamo parlando ed è in questo secolo che avviene nel corso del decimo secolo dice sempre il libro il libro che stiamo trattando dell'operazione storica nel decimo secolo gli schiavi tradizionali si fecero più scarsi mentre le condizioni delle classi contadine si venivano livellando nel nuovo stato generale di servitù le condizioni di libertà divenne sempre più un privilegio raro riservato alla nascente classe feudale questa era composta da uomini la cui attività principale era la guerra in altre parole banditi ladri e rapinatori con riconoscimento giuridico da parte della chiesa Carlo Magno è solo un assassino professionista niente di più e che vedevano ormai nei contadini una razza umana inferiore da sfruttare e angariare in tutti i modi è vero che rare furono in quel secolo le rivolte contadine nei confronti dei soprusi i contadini preferivano defilarsi aspettare che l'odio del prepotente passasse si parla di una rivolta in orbandia questa rivolta venne sedata leggiamo la cronaca del dopo rivolta per comprendere come i cristiani ridurranno le persone in schiavitù vi sto leggendo la cronaca in questo momento il conte Raul andò talmente in coller che non volle tenere alcun processo li rese tutti tristi e dolenti a parecchi fece strappare i denti gli altri li fece impalare fece loro strappare gli occhi e tagliare le mani a tutti fece arrostire le gambe anche se ne dovevano morire altri furono bruciati vivi o immersi nel piombo bollente li fece così sistemare tutti orribili furono da guardarsi non furono più visti in nessun luogo senza essere riconosciuti il comune è ridotto a nulla i villani si guardano bene dal farlo ancora si sono ritirati e dimessi da quanto avevano intrapreso questa è come è stata domata la rivolta in Normandia o meglio prima è stata domata e poi hanno ridotto in queste condizioni le persone cosa avevano intrapreso questi disgraziati cosa cosa volevano quali erano i loro obiettivi vediamo cosa dicevano e così possiamo andare nei boschi tagliare gli alberi e prendere quello che vogliamo prendere il pesce negli stagni e la selvaggina nelle foreste la nostra volontà sarà fatta nei boschi nelle acque e nei prati siamo uomini come loro pretendevano di essere uomini stimbecilli e ha fatto bene il conto e Raul a strappargli i denti a levargli gli occhi a immergerli nel piombo bollente volevano essere uomini ma siamo matti crescino schiavi no è questo il cattolicesimo si semina soltanto tristezza e disperazione le telefonate solo quando ho finito si semina soltanto tristezza e disperazione quando si coltivano i sogni senza aver inchiodato l'intento e praticato l'agguato lo impararono in quel tempo gli apprendisti stragoni lo impararono a loro spese mentre un mondo attorno a loro si stava intristendo tutto il mondo cristiano diventava un campo di concentramento di schiavi che agivano a vari livelli per servire il potere ecclesiastico la ferocia degli adoratori del macellaio di Sodome Gomorra e del pazzo di Nazareth era talmente grande da giustificare qualsiasi atto di ribellione degli esseri umani gli stregoni reimpararono che l'essere umano non è creato ma è divenuto per adattamento alle condizioni incontrate dovevano imparare ad agire con leggerezza per rispondere alle condizioni che storicamente avrebbero incontrato per trasformare il sentire degli esseri umani e trasformare l'oggettività in cui vivevano sfruttando un documento della fine del XIII secolo di Philippe de Rem signore di Ben Manoir cosa si dice dei servi il servo che si sottrae la sua condizione deve essere perseguitato dal suo diretto signore in base alla sua origine nella corte della signoria dove vive se si fa libero oppure nella corte del signore nel quale si riconosce uomo di corpo e siamo all'articolo 1431 l'articolo 1434 sempre di questo personaggio dice la servitù viene da parte della madre perché tutti i figli di colei che è serva sono servi anche se il padre sia un uomo libero se il padre fosse cavaliere e sposasse praticamente si facesse la serva tutti i figli avuti da lui sarebbero servi e sarebbero privati della nobiltà tanto da non poter essere cavalieri perché non è lecito ad un servo diventare cavaliere benché la nobiltà per la quale si debba diventare cavaliere debba venire dalla parte del padre per quanto la madre sia vile villana possono essere cavalieri purché quella non sia serva nel qual caso non potrebbero e ancora risulta che quando un uomo è servo e prende una moglie libera tutti i figli sono liberi per cui ci sono le regole che stabiliscono lo schiavismo come discendenza non tutti i liberi sono nobili c'è una grande differenza fra i nobili e gli altri uomini liberi diversa è la libertà degli altri uomini perché la loro libertà viene da parte di madre chiunque nasce da madre libera è libero e hanno la condizione di fare quello che vogliono tranne i diliti e le malefatte che sono proibite fra i cristiani per il bene comune l'articolo 1452 dice abbiamo parlato del secondo stato il primo stato è quello del clero cioè dei nobili e dei liberi il terzo stato è quello dei servi ma questa categoria di persone non è tutta nella stessa condizione e vi sono diversi tipi di servitù perché alcuni dei servi sono così soggetti al loro signore che questo può prendere loro tutto ciò che hanno in morte e in vita e a torto o a ragione tenerli in prigione ogni volta che vuole non essendo tenuto a rispondere altro che a Dio gli altri sono trattati più benevolmente perché finché vivono il signore non può chiedere loro alcunché prosegue ancora quando muoiono o si sposano con donne libere ciò che hanno tocca i loro signori beni mobili ed eredità perché quelli che si sposano fuori dalla loro condizione o della signoria se for mai rientra cioè un particolare stato devono affidarsi alla volontà del loro signore e se muore non ha nessun altro erede che il suo signore e i figli del servo non hanno alcun diritto se non lo riscattano al signore come farebbe un estraneo questo è un documento sempre del novecento che stabilisce le regole per i servi fatto da Philippe de Remy signore di Ben Manoir questa è la condizione della scavitù che viene a fissarsi nel tredicesimo secolo questo terzo stato sarà il protagonista della rivoluzione francese a mano a mano che gli stragoni riusciranno a costruire gli adattamenti a mano a mano che incontrano situazioni storiche ampliano la conoscenza soggettiva sviluppano le determinazioni di massa sviluppano l'intento e la capacità di promuovere se stessi al di là delle condizioni specifiche ricordiamo che per come ha coltivato lo schiavismo la chiesa cattolica ne è responsabile ab eternum e in eterno è chiamata a rispondere di quelle condizioni cioè al di là del tempo e dello spazio qui non siamo davanti ad una condizione del tempo qui siamo davanti ad una dottrina assoluta come emanazione di un dio assoluto e di un profeta che è dio assoluto che giustificano una chiesa cattolica come assoluta emanazione di ciò la chiesa cattolica attuale e tutti i suoi membri sono responsabili di quanto fecero i suoi membri predecessori perché uguale è il pensiero del dio assoluto ed è il profeta assoluto che è dio e questo pensiero non è determinato dalle mie affermazioni ma dalle affermazioni della stessa chiesa cattolica che come dice non ha mai sbagliato e secondo le sacre scritture non sbaglierà mai infatti la chiesa cattolica non ha mai cacciato i massacratori ma ha fatto santi e venerabili quei massacratori che contribuirono alla sua maggior gloria i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione questo deve essere chiaro non prendo sempre le telefonate perché devo ancora finire e oggi sarà lunghina sì veniamo al filosofo di questo secolo la filosofia e il pensiero si stanno un attimino muovendo e le contraddizioni che i cattolici stanno vivendo con con la libertà per in questo momento si stanno sfociando verso i musulmani e il filosofo che tratteremo oggi è Avicenna Abu Ali Hel Hussein Ibn Sina detto Avicenna è un filosofo che già nasce verso la fine del decimo secolo e la sua fortuna nasce nel momento in cui la sua fortuna comincia quando a 17 anni riesce a guarire da una malattia considerata grave il principe di Bukhara che per ricompensarlo gli apre la sua biblioteca nel suo tempo è considerato un buon medico e i suoi libri di medicina vengono tradotti in occidente e vengono usati per studi universitari la filosofia di Avicenna è andata quasi interamente perduta in particolare per quanto riguarda la cosiddetta filosofia orientale in pratica si tratta della filosofia specifica di origine gnostica è necessario ricordare come il problema di distruggere lo gnosticismo non fosse soltanto un problema dei cristiani ma fu anche un problema dei musulmani in altre parole Avicenna sta l'islam come scotto e origenna sta il cristianesimo Avicenna ha acceso prima che l'occidente ha accesso scusate prima che l'occidente ai testi di Aristotele e gli deve coniugare l'antica filosofia greca con la ricchezza gnostica con il corano vincente in quanto supportato dalle armi come in origenna anche Avicenna espone concetti molto vicini al panteismo gli esseri umani sono sensibili al divino che li circonda e questo divino non può essere ignorato per poter imporre la filosofia di morte il divino ci circonda la pulsione di morte impone la rinuncia ad ascoltare il divino immanente per trasformarlo in dio trascendente questa operazione deve essere fatta sia da origenna che da Avicenna mentre può essere ignorata e condannata qualche secolo dopo quando il circostante come divino ormai si è dimenticato almeno educazionalmente parlando per costruzione del condizionamento educazionale come risultato del terrore delle armi il concetto il concetto di partenza nasce dei bisogni di sottomissione coranici dio come essere necessario e intelligenza perfetta perché essere necessario perché se non lo premetti e non pieghi la filosofia a quel concetto ti tagliano la testa sia fra gli arabi sia nell'occidente cattolico da qui se la causa del mondo opera in eterno a me se non concessa la staticità dell'operare dell'esistenza del mondo essa deve operare in eterno la staticità è all'origine come nel proseguo del tempo la trasformazione non è ammessa in quanto se fosse ammessa non sarebbe accettabile il concetto a priori dell'essere necessario e intelligenza perfetta dunque non perfettibile da qui a vicenda prende dagli gnostici il concetto di intelligenza degradanti progressivamente da dio alle varie sfere celeste ecco dunque il demiurgo o ultima di tali intelligenze che regge il nostro mondo producendo le anime ed ha la forma alla materia concepita come eterno principio di molteplicità indipendentemente dall'intelligenza come afferma e suggerisce Aristotele le anime umane per l'azione della loro intelligenza realizzano la loro potenzialità intellettiva e diventano immortali questo concetto oggi fa ridere considerare l'intelligenza come elemento fondamentale del divenire umano eppure questo concetto serviva per dimostrare come l'essere umano fosse diverso dagli altri esseri della natura immagine e somiglianza del dio creatore ancora nel 1900 gli scienziati antropologi inglesi sarebbe meglio chiamarli truffatori elaborarono un modello attaccando e adattando la mandibola di un babuino alla testa di un uomo di qualche centinaia di anni fa per dimostrare come il processo evolutivo umano dipendeva dall'intelligenza e non dalla sua fisicità come in tutti gli altri animali la loro truffa fu scoperta soltanto negli anni 60 quando fu accettata la scoperta dell'uomo austrolopiteco e si poteva procedere alla prova del carbonio radioattivo le dottrine di Avicenna erano conciliabili con le esigenze della filosofia cristiana entrambi dovevano mettere in ginocchio gli esseri umani non sono importanti i nomi con cui si chiama il dio padrone quando qualcuno mette in ginocchio è sempre la stessa tensione e gli stessi bisogni che lo spingono bene questo è Avicenna Avicenna comincia a costruire la prima dialetizzazione della filosofia scolastica bene io oggi dunque ho finito la presentazione di oggi ho parlato dello schiavismo e vi ho parlato di Avicenna ho due ritagli di giornale uno è del gazzettino del 3 del 3 agosto e dice sorprese al rito satanico a campo San Pietro nel Padovano qui a due passi due polli sgozzate alcune candele numerose croci rovesciate chiaramente questo è uno scherzo però al di là dello scherzo è bene sempre ricordarci che questo tipo di ritualità queste porcherie chiamiamole così sono porcherivole cristiane il gioco delle croci rovesciate hanno tutta una simbologia cristiana pertanto sono sempre cristiani magari arrabbiati con il loro dio tanto per essere chiari per cui è un problema interno del cristianesimo e poi ho un altro ritaglio che è molto interessante sul gazzettino etruschi la scoperta di Ercole come dio dei mercanti praticamente cosa è stato scoperto a Cerveteri è stato scoperto il tempio di Ercole nel cui tempio arrivavano i mercanti per comprare per vendere ricordo sempre che i templi antichi nel paganesimo antico erano usati proprio per come punto d'incontro come centro della città o come una funzione pubblica per esempio ho accennato prima al tempio di Cerere che aveva i schedali della plebe oppure Giunone il tempio di Giunone dove si batteva moneta c'era la zecca dello Stato oppure appunto questo tempio di Ercole dove arrivavano i mercanti dove si mercanteggiava dove si comprava dove si vendeva era una funzione pubblica del tempio cioè il tempio non è la casa dove ci si mette in ginocchio e si prega ma è dove ci sono le relazioni fra gli uomini chiaramente la relazione ha una direzione e questo è interessante proprio per ricordarci come Gesù scaccia i mercanti dal tempio cioè il colpo di Stato che Gesù tenta in Palestina consiste nel dire il tempio è mio e ne facciamo quello che voglio io non quello che vuole la gente non quello per cui è stato costruito non è un centro di incontro pubblico il tempio nel tempio tu ti devi mettere in ginocchio davanti al mio Dio questo è il suo tentativo di colpo di Stato e vediamo l'ultima notizia che ho è sempre il gioco degli inganni quando i cristiani tolleranti scoprono semi di verità anche nelle altre religioni è un ritaglio del gazzettino sempre dell'8 agosto del 97 in realtà non è che i cristiani scoprono semi di verità scoprono nelle altre religioni degli addentellati sui quali possono agganciare la loro religione cioè in pratica possono fare gioco di entratura gioco di scasso nelle altre religioni pertanto gioco di scoprono